bene 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 molto bene e destro lo finisci Gabriele lo finisci Gabriele lo finisci finita fallo partire 1-2 sei molto vicino arrivi sempre sei molto vicino metti gamba e gamba sotto non se l'aspetta 20 secondi metti un po' di ritmo che la ripresa è nostra forza forza non solo braccia mi stai a fare male metti ritmo forza forza non si non si non 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 non